accosta lo cacchio è che accosti in mezzo alla strada va bene va ok avanti collega mi raccomando la situazione buongiorno favorisca patente al libretto forza quello ragazziccio di nick e bentornati qua su gt5 e ragazzi oggi vi porto una nuova auto e che auto raga un'auto strepitosa raga la ferrari 458 italia della polizia quindi vi faccio vedere un po il veicolo diciamo così dall'esterno vi faccio vedere il veicolo un po dall'interno e poi andiamo un po a pattugliare le strade andiamo un po dentro come potete vedere raga l'auto ovviamente fatta bene come vi dicevo abbiamo anche il cruscotto che tutto sommato funziona ovviamente vedete anche che ho un po la testa che esce fuori meglio di la telecamera che esce un po fuori questo è un piccolo difetto allora raga prima di andare in giro volevo pigliare un partner eccolo qua raga abbiamo un partner raga ok partner andiamo dobbiamo andare a pattugliare dai forza sotto a bordo e andiamo dai che il crimine chiama il crimine chiama cioè il dovere chiama ok va bene ce vado cevo 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 guarda come sbanda o mio dio forza ricche ah già lo devo prima accettare ovviamente maronna ok permesso eccolo 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 fermo polizia parla non si vuol fermare non si vuol fermare il criminale ho capiste stop veicolo e io regrette è una cosa simile andiamo dai a o non mi fa graffiare la macchina centrale ho bisogno di rinforzi vecchina chi fermo si a o da fermo ti sparo non devo fermare ah non devo fermare ah io ti sparo ah guarda uomo avvisato mezzo salvato ah ok va spariamo dall'esterno perché dall'interno l'arma non ti fa puntare bene preso 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 ma dove sono i colleghi che ho chiamato fermo fermo polizia scendi immediatamente dal veicolo con le mani in alto ti dichiaro in arresto che dichiaro non ti muovere arrendete ti dichiaro in arresto per furto d'auto resistenza pubblico ufficiale e poi anche perché teneva in giro con questa roba qua i piedi cos'è non ti vergogni arrestato raga o basta è finito tutto a posto a un collega ma tu però pure devi fare qualcosa se che fa e controlla per terra vedi no fai qualcosa codice 2 esatto centrale esatto centrale mi serve un veicolo da trasporto il sospetto deve essere portato in centrale io non posso perché il mio veicolo non ha posto in cui insomma metterlo lo posso mettere nel motore oppure davanti nel piccolo bagagliaio vabbè comunque mi serve anche come cacchio è ho sbagliato tasto centrale mi serve anche un carroattrezzi l'auto del sospetto ha bisogno di essere rimosso da qua deve essere rimosso d'acqua l'auto dai dai e allora dove ok il carroattrezzi arriva prima dalla polizia ovviamente la polizia non viene mai basta che non ti porta la mia macchina grazie non dà già da graffiamma la macchina ti spacco tutto ma dico io perché quando chiami una volante non arriva mai siamo in centro città siamo in centro città centrale porcaccia mandato la macchina niente raga purtroppo non viene non viene raga purtroppo nessuno che si porta via sto tizio arriva gente che non serve a niente compa non ci posso far niente ok andiamo nessuno solo al venire a prendere mi dispiace non c'è molta scelta piglia i soldi compa piglia i soldi che che così ci compriamo due due ciambelle dai no niente ciambelle compa vabbè ok raga quindi purtroppo non lo so alle volte non funziona se tre ore che aspetta la volante non so porta via nessuno poi me scoccio ma è che posso aspettare a vent'anni chiami una volante non arriva mai vabbè non ci pensiamo più ma vorrà dire che chiunque io arresto farà una brutta fine allora compa ci stai in controllo avanti forza ok ma se quasi quasi no va bene qua dai va bene avanti forza collega non facciamoci sfuggire il il tipo a buongiorno allora favorisca patente al libretto po favori allora fammi vedere la patente al libretto dai beh dove ok andrew smith andrew smith andrew smith andrew smith ok plate check centrale ma controllate sta targa 48 gx t062 a vediamo un po se si chiama veramente andrew smith come cavolo è qua ok allora sì il proprietario è lui tutto in regola va bene a posto va ok allora com'è che gli dico ok non lo so come si fa di se ne può andare diciamo che signore se ne può andare tutto in regola addio arrivederci ok raga finalmente c'è qualcuno che rispetta le regole il mio collega dov'è che va collega la macchina qua è un collega difettoso collega è un collega oh ma sta macchina non sale ma che cacchio è a ti sei svegliato finalmente ha mai fatto graffia tutta la macchina o che problema c'è a questo che c'è problemi c'è problemi ora vediamo se c'è problemi ma ferma dove va che problemi c'è a ok fermo fermo polizia ferma di quel nodo la faccio 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 la macchina c'è i gommanti proiettile yeah yeah centrale centrale ho bisogno di un posto di blocco più avanti insomma fate qualcosa ok ciao 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 forza forza ci stanno pure i carabinieri ci stanno pure i carabinieri oh io 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 scendi dal veicolo criminale ma che è il tizio di prima ma l'ho ammazzato l'ho ammazzato a questo è ancora vivo e ricordo leggermente di averlo ammazzato io però oh te nemmai direttamente in cella e sol perché gommia va a finire direttamente al cimitero e sol hai capito eo po favore mi è graffiata la macchina che è nuova nuova collega collega andiamo dai forza che il dovere chiama da voi non ha riparato a sta macchina che non si può vedere così dov'è il mio collega hai salito in macchina non ci avevo manco fatto caso ok a posto quindi il tipo che teoricamente era morto in realtà era vivo oppure il suo fratello gemello a prescindere tutte e due sono andati a finì male uno è morto uno in calè e uno in galera ok va che facciamo che facciamo qui c'è un limite di velocità parecchio ristretto quasi quasi famo un controllino a a io graffiata la macchina leggermente bassa con le campo e rimanere in macchina non è un problema ci penso io ad un tanto controllo se tutto è regola va bene allora qual è il tasto qua che non mi ricordo eccolo qua che siamo un radar metric qua il limite di 50 km oraria avanti oh collega non stai a mezzo le scatole ok il limite di 50 lo superano tutti va forse siete a bordo che chi sgarra bene oh deciditi però ah collega dai devo fermare qualcuno vediamo il primo che 80 80 80 ok allora andiamo dietro al sospetto raga già che ci siamo un controllo alla targa io famo centrale mi controlla sta targa mi controllate questa targa 28 r u 211 ma che fa questo mi frena di botto cos'è vabbè comunque è tutto in regola ma non ha importanza comunque andava troppo veloce per i miei gusti ok vai dov'è che lo fermiamo oh ma che è sto radar non so come si disattiva sto benetto radar mi sta a ah vai 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 vai這樣子 mi ha fatto confondere oh bistorato ok Bistorato ok no com'è che si fa bistorato perché è già più avanti accosta 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 bistorato bistorato lo cacchio è che accosti in mezzo alla strada va bene eh ok avanti collega mi raccomando la situazione buongiorno come cacchì che funziona qua che i tasti mi... com'è? eccolo qua buongiorno favorisca patente al libretto forza avanti dai vediamo un po' mylan ah già è vero ok è lui è lui perché già la targa l'avevo fatta controllare va bene allora senta le devo fare 100 dollari di multa perché andava oltre i limiti consentiti dalla legge di Los Santos legge numero 422 dell'articolo penale ma è una cosa un po' lunga comunque è quella va si può affidare va bene va dice ma a me che me frega dice ma collega vabbè va ogni volta che fermo qualcuno sto collega rimane imbambolato collega lascialo perdere se ne è andato dai avanti forza e che cacchio andiamo ma dai che il dovere chiama dopo eeeh ok da che cacchio di parte ci vado mo eeeh devo trovare un'uscita andiamo contro mano ma permesso polizia fate passare è una situazione di emergenza vado anche contro mano mai un'emergenza avanti permesso oh sta macchina corre raga sta macchina corre altro che altro che oi ooooh 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 disgraziato ma dove va quello il criminale si trova di qua forza 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 che lo raggiungiamo io c'è una ferrari ooooh eeeh no vogliate mica c'è una 500 eeeh perchè mi taglia la strada dai 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 che ci stanno pure i carabinieri all'inseguimento ci sta di tutto all'inseguimento dai e che il criminale è rimasto da solo non possiamo farcelo sfuggire mazza come tre riuscire a mantenere il controllo del veicolo bisogna dire non è proprio semplice io vi ricordo oltretutto che sto giocando con la tastiera eh guido con la tastiera quindi non è tanto semplice cos'è sta roba ah è il coso il ok si oi ehi fermo dai oh vada che si sta fermando vada che si è ferma vada che si è ferma non si è ferma fermo 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 polizia di los santos pull over now eeeh la macchina mi scassaste eeeh collega spara però non serve a niente sto collega fermo oh non devo far mai giungato fermati eeeh sgraziato della SWAT svuottari di cacca mi state facendo sbandare il sospetto intanto scappa oh oh pigliamo 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 fermato 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 lo gingato l'ho detto veramente l'ho detto veramente gingato fermo scendi dal veicolo polizia di los santos fermati arrenditi arrenditi polizia che cacchio eh oh qui sparano così a vanvera give her up give her up ok ti dichiaro in arresto per complicità in fuga li abbiamo presi tutti li abbiamo presi tutti no no non venite non venite non venite non venite vi dovete portare a questo vi dovete portare a questi non me li posso portare io vabbè va proviamo a chiamarla volante va codice 2 local transport unit e è arrivato il monster truck da polizia vabbè dai speriamo che viene ma non se ne sta a capire niente che cacchio è successo eh non dire ste parolacce ok ragazzi secondo me c'è qualche piccolo problema sarà che non arrivano mai i veicoli che si portano via sti qua quindi che cacchio faccio signorina mi dispiace ok problema risolto eh niente raga non lo so c'è qualcosa che non va ok allora vediamo qualcosa da farci sarà qua no oh yeah dov'è 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 chumash chumash non cacchio eh oh ah ma questo è quello poliziotto è là sotto va 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 dove 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 ma chi è che devo fermare ok eccolo fermo fermo polizia fermo non si ferma centrale non si ferma centrale il sospetto non collabora fermate polizia della Santos mi vuoi fregare ok gingato mi vuole fregare ok centrale mandatemi un po' di elicotteri va ah va sta a fare elicotter support dov'è what che cacchio è questi sparano questi sparano questi sparano questi sono elicotteri che sparano eh di fatto è tutto risolto gli elicotteri hanno ucciso i sospetti wow ehi 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 criminale criminale fermati fermo fermo uè 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 dove scappio hai fatto un'azione pericolosa oh che cacchio di ferma fa di botto ok ma che cacchio sei pazzo hai visto cosa hai fatto signorina oh dentro ci sta roba che potrebbe essere droga niente un po' di mieno signorina sta trasportando qualcosa di illegale lei no lei dice di no ah signorina per caso lei come cacchio è che si va giù qua io i tasti vado in confusione ok eh ha bevuto un pochettino ok va bene allora vediamo un po' faccio qualche controllo qua qual è il tasto per ah ok vediamo un po' se ha bevuto alcol test ah 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 un po' sul limite eh qual è il tasto mo qua per controllare il veicolo non mi ricordo più qual è il tasto raga ah eccolo qua ah eccolo qua vediamo un po' se trovo qualcosa di illegale avanti signorina sto toccando qua e là non ho trovato niente eh qualcosa salterà fuori no avanti vediamo un po' dice che insomma magari salta fuori veramente sta droga vediamo niente guarda lui guardalo cioè non fa mai niente stavolta ha capito che qualcosa prima di finire sto gameplay la deve fare deve farsi notare pure lui no eh collega tu hai un canale youtube ti metti in descrizione visto che ti stai rendendo utile finalmente magari chissà magari c'è là sto canale chi lo sa vabbè signora senta le devo fare però una multa perché prima lei si è comportata veramente male ha fatto un danno enorme 300 euro di multa dollari di multa mi dispiace signora ma è un'azione dovuta dall'articolo 454 del codice penale del 1820 più o meno lì per lì siamo va bene avanti se ne può andare la prossima volta mi raccomando però stiamo attenti avanti collega cos'è si è ubriacato oh qua 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 forza sta a bordo collega shock fire and'andava andaba andava andaba andava andava andavo andiamo andamo perché parte ce vado c'è vado cosa c'è vado da qua niente c'è va niente c'è va forza che sta paura ferrario è marriDotta ma ancora cammina un gommaro dai 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 ma cos'è 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 tutto stagione oh cacchio questi sparano collega collega attenzione collega sono tutti armati fermo a rendere un quanti cacchio so presa per me perché questi sono pericolosi bisogna sparare su tutti armati reloading reloading ok collega torna in macchina collega torna in macchina è morto lascialo perdere morta andiamo o cacchio passano passano che collega spicciate che questi sparano andiamo 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 mi hanno bucato una gomma credo mi hanno sbucato la macchina ma noi non ci arrendiamo la ferrari si fa sentire e ti pare che solo tu spari io sparo pure bello dai devi crepare più un po' oh cacchio ok forza collega peggialo peggialo butta l'arma ok collega è tutto a posto controlliamo il veicolo collega centrale i sospetti sono morti crediamo almeno così vediamo un po' ok confermo centrale i sospetti sono morti allora centrale abbiamo bisogno di un coroner ci stanno un paio di morti più cancellato no ok ok sta arrivando il coroner che cacchio mi è sbucato davanti il coroner che bello mi ha fatto spaventare sto tipo vestito di bianco ok centrale mi serve anche un carattrezzi bisogna rimuovere il veicolo dei sospetti ok perfetto ve li potete portare sti morti a grazie sono un sacco da spazzatura ottimo ecco il carattrezzi si è un po impantanato credo vabbè ok ok collega qui abbiamo finito possiamo tornare in auto dai andiamo collega salta a bordo collega ok una bella riparata al povero veicolo non mi graffia la macchina che t'ammazzo ok ragazzi dai possiamo dire che il gameplay si conclude qua spero tanto ragazzi che questo gameplay vi sia piaciuto mi raccomando come sempre commentate iscrivetevi lasciate un bell mi piace se questo video vi è piaciuto ci becchiamo presto ragazzi in un prossimo gameplay ciao alla prossima raga